L'intervento è anche destinato a evitare che si perda materia in una casa che è stata già immassata oggetto di perdita di materia archeologica. Ma oltre a questo ovviamente continua la manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un degrado che poi sarà difficile fermare una volta che si rientra nella normalità. A Pompei si continua a lavorare, ovviamente seguendo tutte le norme di sicurezza, ma ovviamente i restauratori devono continuare nei luoghi più costretti. Per esempio in questa casa dove l'intervento è anche destinato a evitare che si perda materia in una casa che è stata già immassata oggetto di perdita di materia archeologica. Ma oltre a questo ovviamente continua la manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un degrado che poi sarà difficile fermare una volta che si rientra nella normalità. La manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un degrado che si rientra in una casa che si rientra in una casa che si rientra in una casa. La manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un di grado che si rientra in una casa. La manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un di grado che si rientra in una casa. La manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un di grado che si rientra in una casa. La manutenzione ordinaria per evitare che ci sia nel sito un di grado che si rientra in una casa.